Anche qui dicembre ha lasciato il segno sui grafici dicembre 18, ma sostanzialmente non ha spento quella voglia di rialzo che caratterizza gli indici americani ormai da 10 anni. Ricordo che proprio l'8 marzo è il decennale del rialzo del mercato americano, il famoso 666 DSP risale a 10 anni fa e quindi almeno io non ho mai visto un trend così definito, 10 anni di rialzi interrotti che non sembrano voler terminare. Io onestamente anche qui su una logica di medio-lungo termine faccio un po' fatica a posizionarmi sul mercato americano perché dopo 10 anni di rialzo, secondo me è del tutto legittimo una fase di consolidamento. Però per ora ho torto perché l'indice si sta riportando piano piano sui massimi che ha toccato a ottobre 2018 e anche qui molto tirato perché il trimestre che ci lasciamo alle spalle è un trimestre record per gli Stati Uniti. E quindi qui entrare a questi prezzi mi sembra molto molto dischioso, attenderei quantomeno un ritorno a 2800 di DSP 500 per non entrare sui prezzi troppo tirati e anche a 2800 entrerei non con una logica di lungo termine ma più con una logica speculativa.